Grazie Presidente, anche in questo caso mi sono trovato un pochino spiazzato da questo parere, perché? Perché l'allegato B è parte integrante della delibera di Assemblea Capirina 91-2019 e semplicemente in questo emendamento andiamo a cancellare alcune tipologie di arredi all'interno, anzi non di arredi, di ausili all'interno dell'allegato B, quindi le tende autoportanti a pacchetto a rullo, i montanti in legno alluminio, copertura in tela crezza e a mantovana solo frontale, quindi ci sembra un miglioramento della delibera iniziale, il parere negativo dice che le sole tipologie di arredo ammissibili attualmente sono quelle dell'allegato D, non è una tipologia di arredo, ciò che è presente nell'allegato B sono gli ausili all'arredo come le pedane ad esempio, però non si comprende come un miglioramento dell'allegato B possa introdurre un peggioramento che porti a un parere negativo, questo sinceramente non lo comprendiamo e riteniamo che questo emendamento invece sia molto utile per poter migliorare l'allegato e per essere ancora più conformi a quelli che sono i dettami oggi imposti dagli uffici. Grazie.